È fantastica! Questa collana è fatta apposta per te! Oh mio Dio! Guarda che bella borsa! Oh, che situazione terribile! Hmm, nessuno è in giro! Sai che c'è? La prendo! Oh mio Dio! Che fa quella ragazza? È una ladra! La fermerò! Bene, vieni da mamma! Un po' più vicino e... presa! Ma che diavolo? Non è una borsa, è una torta! Ma che significa? Wow, sta tremando tutto! Oh, ehi! Siamo state catapultate... in una sfida! Chissà che cosa c'è qui sotto! Sei curiosa? Oh, com'è carino! Oddio, hai visto i capelli? E quella mossa? Non è fantastico! Aspetta un attimo! Ma certo! Qui sotto deve esserci qualcosa per me! Sì, lo sapevo! Un rossetto! Ok, vediamo il colore! Oh, molto carino! Spero di averne uno anch'io! Ehi! Anch'io ho un rossetto! È ora di mettermi i ghingheri! Devo solo applicare il rossetto in questo modo! Uff, che ci fa laggiù? Vediamo chi lo colpisce di più! Ciao, Chris! Perché non vieni qui? Chiacchieriamo un po'? Volentieri! Oddio! Sì! Sta venendo qui! Ciao! Ciao, Chris! Ehi! Ma stai benissimo! Non pensi che il suo trucco sia fantastico? Cosa? Ma... ma... Ehi! Ti spiace se assaggio un po' di glass? Non ci credo! È la più buona mai assaggiata! Quando dico che adoro gli spuntini, penso proprio a questo! Beh, se è questo lo stile che gli piace, allora lo copio anch'io! Molto bene! Ehi! Fermati! Perché ora tocca a me iniziare! Eh? Cos'è questa? Perché non apri il tuo? Vediamo che c'è! Oh, ok! Ottima idea! Sono curiosa! Eh? Ho l'altra scarpa, credo! Wow! Belle scarpe! Credi che una delle due sia falsa? Oh! Che schifo! Oh! Ehi! Riconosco quell'odore! È la mia scarpa! Cavolo! Non sapevo di averla smarrita! Che schifo! Prendila! Dovresti farti controllare per quella puzza! Oh! Questo profumo è molto più buono! Perfetta! Sì! Ho di nuovo la scarpa! Chi se lo aspettava? Come vuoi! Io sono contenta perché questa scarpa si mangia! Sentiamo che sapore ha! Oh! Wow! È buonissima! Incredibilmente deliziose! Che combini? Niente! Ammiro le scarpe! Mi piacciono un sacco! Ok! Io mi gusto questa qui! Guarda come sono carine quando ballo! Oh! Sì! Uniche! Come dici tu? Stupende! Apriamo insieme! Pronta? Via! Oh! Lingotti d'oro! Siamo ricche! Forse! Uno dei due è falso, vero? Per scoprirlo dovrei assaggiarlo! Forse è questo quello falso! Ok! Controlliamo da vicino! Eh! Non saprei! Magari dando un morso! Oh! No! Questo non dovevo mangiarlo! Oh! Ma quindi posso farlo io? Ah! Sì! Questo è un bel lingotto d'oro se posso dirlo! I miei denti! Aia! Che posso fare? Oh! Oh! Mi dispiace! A volte la vita è dura! Ma la mia torta è deliziosa! Non riesco a smettere di mangiarla! Ehi! Un attimo però! Sono ricca! Oh! Beh! In effetti hai ragione! Per fortuna ho qui il telecomando della vita reale! Metto in pausa! Sì! Ha funzionato! Questo lo prendo io! Vediamo dove nasconderlo! Magari sotto al cuscino! A questo punto sono io quella ricca! Posso tornare alla mia torte! Oh! Beh! Premiamo play! Ehi! Il lingotto! Dov'è il mio lingotto? Oh! Vuoi un po' del mio? È buono? No! Non lo voglio! E come lo mangio senza denti? Beh! Come vuoi! Beh! È il giorno peggiore della mia vita! Potevo comprare dei denti nuovi! Dai! Apriamoli di nuovo insieme! Iniziamo! Oh! Carta igienica! Decisamente non divertente come... Beh! I lingotti! Almeno un rotolo deve essere una torta! Ho una grande idea! Mordiamoli contemporaneamente! Vai! Oh! Mi è capitata di nuovo la torta! Oh mio Dio! È deliziosa! Aspetta! Oh no! Sto mangiando carta igienica! Oh! Sono stata fortunata anche stavolta! Meglio una torta che la carta igienica! Questo è poco ma sicuro! Sai una cosa? Per gustarmela userò le mani! È sicuramente il modo migliore! Ci entra tutta in bocca! Non servono altri utensili! Come vuoi! Mangia pure come un animale! Deliziosa! Oh! La mia pancia non sta bene! Posso avere la carta igienica? Credo che mi servirà! La mia carta igienica? Ehm... Intendi questa? Sì! Quella! Per favore! Oh! Non lo so! Magari se mi ridai quello che mi hai rubato! Oh! Bene! Eccolo qui! Vedi? È al sicuro! Vedi come luccica? È quello vero! Ecco a te! Ora la carta igienica! Ti prego! Devo andare! Sì! Finalmente ho riamuto il lingotto! Prossimo round! Ok! Solleviamo di nuovo insieme! Tre! Due! Uno! Via! Ehi! Dovevamo aprirli insieme! Ci stavi mettendo troppo! Oh! Adoro il basket! Ehi! Passala a me! Sono libera! Passa qui! Bene! La vuoi proprio? Allora prendila! Presa! Oh! È una vita che non gioco! Prendi! Di nuovo a te! Oh! Ma che... Da dove viene questa palla? Oh beh! No! Hai tirato troppo forte! Ora è con lui nell'altro video! Non abbiamo più una palla! Che sfiga! Non abbiamo giocato per niente! Oh! Ehi! Un momento! Ho ancora il mio! Sì! Come pensavo! Un'altra palla! Si gioca di nuovo! Grazie al cielo! Bene! Lanciala qui! Oh! Sicura? Ok! Pronta? Arriva! Oh no! È una torta! Che è successo alla nostra palla? Vediamo il lato positivo! Altra torta! Ehi! Lasciamene un po'! Non ne prendo molta! Mmm! Davvero buona! Ha un leggero sapore di agrumi! Sì! Forse la mia preferita! Stavolta inizio io! No no! Tocca a me iniziare! Un telefono nuovo! Guarda che bello! Vabbè! Io non voglio un telefono nuovo! Guarda come si diverte! Wow! Ehi! Dove l'ha presa? Pronto? Pronto? Qualcuno mi sente? Sto cercando il segnale! Cosa? Non è così che funziona! Aspetta! Ma è una torta! Sentiamo il sapore! Oh! È un po' dura! Forza torta! Solo un morso! Fatti assaggiare! Ehi! Ferma! Non è una torta! Stai mangiando un telefono! Se ti serve un telefono, perché non provi questo? È una linea fissa! Non ci credo! Un vero telefono! Sì! Grazie! Ora posso chiamare i miei amici! Pronto? Oddio! È una vita che non ci sentiamo! Beh, mentre lei è impegnata, vediamo che mi è capitato! La logica dice che questa è una torta! Controlliamo! Avevo ragione! Una deliziosa torta a forma di cellulare! Oh mio Dio, sì! È una vita che non mangio una torta! A parte quella a forma di pallone! Assaggiamo un altro angolo! Davvero gustoso! Credo che la torta a forma di telefono sia la mia preferita! Un altro morso! Non riesco a smettere! Troppo buona! Mi piace anche il profumo! Intenso! Quasi tecnologico! Questo spuntino era delizioso! Sì, no! Il cibo qui non è buono! Wow! Questo posto è fighissimo! Oh sì! Oh sì! Beh, eccovi qua! Wow! Prima io! Fio! E? Wow, ma quanta roba! Anche del colorante alimentare! E io! Questo non sembra affatto commestibile! Dovro essere molto creativa! Almeno io ho tanto con cui lavorare! E iniziamo con la torta! Ecco, la consistenza va bene! Ora devo renderlo più cremoso! Dovrebbe davvero ammorbidirlo un po'! Ottimo! Ora sì che va bene come impasto! Questa roba mi aiuterà a creare ciò che voglio! Riesci a indovinare cosa sarà? Ora che è tutto verde, posso iniziare a modellarlo! E ora che è piatto, userò degli stampi! Creerò delle foglie! Ora va molto meglio! Non sembrano vere! Ora per la parte successiva della mia creazione, basta un pochino di colorante per cambiare il tutto! Hai capito cosa intendo? Devo appiattirlo e poi creerò una pallina! Ora la avvolgerò e poi le darò la giusta consistenza! Riesci a capire cos'è? Esatto! Sì, è una bella arancia! Sembra commestibile! Wow! Penso di poter fare qualcosa di simile! Oh, sarà dura! Toglimi il sudore! Sì, molto meglio, grazie! Che ne dici se la tagliamo? Facilissimo! Ma che bontà! Non può essere più realistico di così! Concentrati! Beh, che ne pensi? Uh, non posso competere! Per me? Grazie come sei carina! Buon appetito! Parigi, che c'è di meglio? Ehi, vuoi delle patatine? Fammi pensare! Userò questo! Adoro la torre Eiffel! Bellissima e... Deliziosa! Eh, non sono sicura che tu possa farlo, sai! Wow, dove siamo? Questa non è Parigi! Che importa? È una food challenge! Vai! Super divertente! Voglio andare per prima! Ok, va bene! Uh, un telefono nuovo di zecca! Il mio è rotto! Che odorino! E anche il sapore, non scherza! Giusto un pezzettino! Facendo attenzione... Non vedo l'ora di provarlo! Mmm, è spettacolare! Uh, vediamo cosa ho! Ottimo! Ho anche io una torta a telefono! Non voglio una fetta! Lo voglio tutto! Ah! Oh mio Dio! Non credo che questa sia una torta! Stai bene? Mi senti? Non è divertente, è... Scioccante! L'hai capita? Scioccante! Guardati! Che ridere i tuoi capelli! Selfie! Bici! Siamo venute malissimo! Adoro! Chi va per prima? Lotta dei pollici! Ho vinto! Sì! Adoro questo gioco! Crocs! Beh, speriamo sia più buona di come appare e come odora! Dura! Mi sa che è troppo cotta! Sembra di gomma! Ah, è di gomma! Ecco come usarla in modo utile! Mi sento come cenerentola! Dov'è il mio principe bellissimo? Guarda, scarpe gratis! Oh sì! Come se è alla moda! Tocca a me! Oh, l'altra! L'odore è quello di una torta! Non vedo l'ora! Aspetta! Cosa? Oddio, cos'è laggiù? Guarda! Scambio rapido! Ma non vedo nulla! Quasi fatto! Non c'era nulla! Boh, ho visto un bel ragazzo! Forse non ci vedo bene! Vabbè, è l'ora della torta! Non ha un odore buonissimo, ma non fa niente! Dall'affetto sembra eccezionale! Mmm, ma è tremenda! Mossa perfetta! Ma sono in paradiso! Ma questo è... Mikai! Io non ci posso credere che tu l'abbia fatto! Vuoi condividere? Giù le mani, ladra! Forse posso prenderne un pezzettino! Non ti avvicinare! È mio! Ok, decido chi va prima! Uh, di nuovo io! Soda! La mia preferita! La adoro! Proviamo qualcosa di diverso, sì! Userò questa ciotola! Poi ci metto dentro la soda! E ora mi serve solo della colla! Ecco! E ora una bella mescolata! Non ho minimamente idea di cosa tu stia facendo! Non sembra malaccio! Guarda un po'! Che cosa pazza, eh? Na 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 na! Com'è elastica! Troppo divertente! Divertentissimo! Un'altra soda! Ma... Questa lattina è meglio! È una torta! Direi che è il momento di fargliela pagare! Ehi! Eh, ho da fare! Ho delle mentine della soda! Guarda qui! Ma sei pazza! Ecco qua! Non posso guardare! Esploderai! Che dirò alla tua famiglia? No! Che buona questa lattina! Perché mangio la colla? Perché mi fai questo? Ok, la divido a metà! Torta! Wow! Divertiti! Ok, vai prima tu! Sei troppo carina! Oh wow! Rotolo di carta igienica! Divertente! Stanno provando a dirmi qualcosa! Non guardare me! Forse dovresti provarla! Qual è la cosa peggiore che può succedere? Com'è secca! Non credo sia una torta! Oh bene! Vediamo! È bellissimo! Il rotolo di carta igienica migliore che io abbia mai visto! La taglio a metà! Non voglio essere egoista! Quanto è morbida! Gnam! Mi sa che serve un tovagliolo! Se no sporchiamo tutto! Sembra buona! Deliziosa! Questa è la cosa più buona che io abbia mai mangiato! Non è giusto! Aspetta un attimo! Ho un'ottima idea! Posso usare questa crema di cioccolato per fare uno scherzo! Ne ne metto un po' sulla mano! Poi sulla carta igienica! Dovrebbe essere ok! E ora la spalmo! Perfetto! Ciao! Posso averne uno strappo? Ok! Grazie! Ne prendo una fetta! Prenderò questa! Cosa? Hai ragione! È proprio buona! Che schifo! No! Cos'è? Cacca! Ah ah! Schertetto! Non mi va più la torta! Insieme! Che buono! Assaggia il tuo! C'è qualcosa che non va! Non c'è caffè! Aspetta! È una torta! Torta al caffè! Che fortuna! Tocca a me! Scotta! Scotta! Mi serve qualcosa per raffreddare! Latte! Funzionerà! Forse ha sete! Forse devo aiutarla! Servono anche questo gli amici! Riempio la tazza col succo! Ci metto sopra un pezzo di carta! E lo ribalto! E ora tiro via la carta delicatamente! Con della panna la fregherò! Molto meglio! Questa è cioccolata calda! Per me! Sei la migliore! Figurati amica mia! Solo per te! Migliori amiche per sempre! Ah! Ha funzionato perfettamente! Ah! Sembra se ne sia rovesciato un po' qui e qui! Come sei cattiva! Sei stata tu a fare questo disastro! Divertiti! Non ti parlo più! Non ti parlo più! Aspetta! Voglio andare per prima! Dai! Vai! Oh wow! Che odorino! Di milioni di dollari! Il sapore non è da meno! Che buono! C'è qualcosa di duro dentro! Spero non siano monete di cioccolato! Tocca a me! Com'è realistico! Au! I miei denti! Il dentista non ne sarà per niente contento! Non ci credo! Sai cosa sarebbe figo? Scambiarceli! Ottima idea! Ecco qua! Adoro le torte! Questa poi è proprio buona! Come luccica! Sono ricca! Ehi! Li scambierò con altre torte! Uh! Grazie! Proprio quello che volevo! Dove li hai presi? Cosa mangio per prima? Forse entrambe! Chissà che ho preso la decisione sbagliata! Ehi! Anch'io voglio giocarci! Dai, dammela! Lascia stare, per favore! Ora guarda cosa hai fatto! Colpa mia! Ups! Ecco la prossima sfida! Dopo di te! Va bene! Wow! C'è molto da fare qui! Oh! Beh! Questo sembra interessante! Stai pensando a quello che sto pensando io? Tieni duro, ragazza! Mi piace! Sono ispirata! Ah! Stupendo! Questo ti terrà al sicuro! Wow! Penso di poter fare di meglio! Tenetevi forte, gambe! Bene! E ora per un po' di gelatina! Arriva la pioggia! Ma guarda tutta questa gelatina! Wow! Oh! Che diavolo! Uh! Posso farlo anche io, sai? Il mio è solo un po' diverso! Mi piacciono gli sprinkles, vero? Interessante! Oh no! Sta cadendo a pezzi! Pura magia! Che schifo! Piano... E... Solleva! Ha funzionato! Fammi provare! E... Fallire! Parla per te! Ma sul serio? Sta peggiorando sempre di più! Oh! Ora questa torta sì che è bella! La tua torta invece... È proprio l'opposto! Non credo di poterne mangiare un altro pezzo! Ne rimane una fetta! La prendo io! Ma la volevo io! Ho un'idea! Ops! Mi ci ha scivolato il dito! Bleh! Che schifo! Beh, eccoti la tua torta! Ma cresci! Hai iniziato tu! Ragazze! Non voglio vedere questi comportamenti in casa mia! Basta! Dovrei punirvi? Mi sa che... Ho la punizione ideale! Dove siamo? Mamma è una strega! Che importa! Torta! Puoi girare per prima la ruota! Va bene! Cetriolini! Ok, riprovo! Bleh! Assaggiamo! Croccante! Voi andate dritti sulla torta! Carini! Ne metto un altro qui! Dobbiamo seriamente parlare delle tue abilità culinarie! Devi lavorarci su! Tocca a me! Caramelle a forma di occhi! Vediamo un po'! Guarda! Occhi! Sono divertente! Prima assaggio questo! Aiuto! Aiuto! Oh no! Che faccio? Devo chiamare un'ambulanza! Mamma! Sto soffocando! Oddio! Questo potrebbe farti male! Wow! Lancio perfetto! Ti sei persa qualcosa! La mia torta di cetriolini è rovinata! Ecco qua! Com'è bella! Una torta di classe! Come sei strana! Finito! Tocca a me girare! Non vedo l'ora! Zucchero filato! Sì! Non male! È grandioso! Sarà buonissima! La combinazione di sapori! Wow! Adoro lo zucchero filato! Lasciamene un po'! Tocca a me! Qualcosa di dolce, per favore! Peperoncini! Oh no! Forse non sarà così male! Voglio dire, non sembra piccantissimo! Ma una challenge è una challenge! Almeno il colore sembra carino! Vabbè, io mangio lo zucchero filato! Non so se mettercelo! Voglio dire, un altro solo in più non farà male, no? Ecco qua! Oh no! Non bene! Forse devo soffiarci sopra! Stai indietro! Arrivano i rinforzi! Fiu! Quei peperoncini mi hanno davvero giocato un brutto scherzo! Grazie, si sarebbe rovinata tutta! Beh, rovinata di più! Tutto risolto! Perché non vai per prima? No! Ho paura! Vai prima tu! Ottimo! È solo una ruota! Per favore, non essere brutto! Calamaro! Ok! Ehm... Stai vedendo! Qualcuno ha ordinato qualcosa di gustoso? Buon appetito! Sono viscidissimi! Disgustosi! Forse posso fingere che siano caramelle! No, non c'è modo! Li metto sopra! Magari i cetriolini coprono il sapore! Questo è il peggiore! Ok, io cosa ho? Oh sì! Marshmallow! E vai! E vai! Quanti? Meglio assaggiarli prima! Che gioco divertente! Questi posso metterli intorno alla parte sotto! Come sono carini! La la la! Non c'è niente da guardare qui! Puoi averne uno, ma tieniti i calamari! Posso andare io? Posso, posso! Dai, vai! Grazie! Pesce? Ok, sono pronta! Guanti? Ok! Maschera? Ok! Pronta per tuffarmi! Immagino i pesci ti vadano bene! Ma non sulla torta! Avrà un saporaccio! Fiu! Sento la puzza da qui ed è tremenda! Pesce numero due! Mentre aspetto, giro la ruota! Oh, S! Qualsiasi cosa sia! Oh, ora sì! Proviamo un po'! Non ci credo, è pazzesco! Ehi, guarda dove lo stai puntando! Ehi, smettila! Mi hai quasi preso gli occhi! Forse non sono brava a sparare! Credi? Io credo abbia funzionato! Mi piace! Artistico! Beh, a parte il calamaro! Che noia! Aspetta! Caramelle gratis! Dai, sei stata brava a sparare! Devo fare pratica! Se ci sono altre caramelle libere, usa me! Tocca a me! Dai, tocca a me! Lasciala, la rompi! Gelato! Ora sì che si ragiona! Lo adoro! Sì! Oh, dai! Dovrebbe essere mio! Possiamo condividerlo! Prendi il tuo! Anche io lo voglio! Pensa, pensa! Ok, non fare caso a me! Bel tentativo! Sì, un ninja! Davvero? Deve adorare il gelato! Sei avara, però! Prendo questo! Ehi, era mio! Gira la ruota! E va bene, lo farò! Oh, salsa piccante! Grande! Vabbè, non devo mica usare tutta la bottiglia, no? Solo un goccino e basta! Troppo! Troppo! Credi che farà una differenza nel sapore? Ah! Buona fortuna, eh! Questo lo metto proprio al centro qui! Che carina! Se togli il pesce e il peperoncino! Ultimo round! Eccoci qua! Decidiamo! Ce l'ho! Cipolle! Ma chi li ha scelti, gli ingredienti? Uh, che sfortuna! Grazie, credo! Meglio iniziare a tagliare! Bene! Ora sto piangendo! Per fortuna sono venuta preparata! Molto meglio! E vai, gelatine! Le metto proprio sullo zucchero filato qui! Finito! Come sto? Direi che è meglio metterle sulla torta! Gelatine! Come sei dolce! Beh, immagino siano finite! Sembrano disgustose! Dai, magari ci stupiscono e sono buone! Ecco qua! Oh, è peggio di quanto immaginassi! La mia è molto buona! Mi piace! Finalmente abbiamo finito! Perché c'è un timer? Un test di matematica sul serio? Ok, se tre torte fanno tre, E una ciambella è... Perché mi sta venendo fame? Una torta moltiplicata per due ciambelle? Non ho abbastanza dita! No, non riesco a concentrarmi! Ci sono quasi! Tu l'hai risolto! Non lo so! Mi aiuti? Uh, chissà cos'è! Forza, apri! Un pulsante rosso! Speravo in qualcosa di più! Wow! Premiamo! Alt! Cosa? Dov'è il tuo senso dell'avventura? Non sappiamo cosa succede poi! Ah! Prendi questo! No! Fermati subito! Oh! Sarebbe davvero brutto! Wow! Che immaginazione! Non ti preoccupare! Sono certa che andrà bene! Ecco! Torta! Uh! Visto? Va tutto bene! Ha un aspetto delizioso! Mi piacerà! Mi piacerà! Aspetta! Non così in fretta! Il pulsante! Oh sì, certo! Devo premere! Vai! Augurami buona fortuna! Pensavo sarebbe successo qualcosa! È come un gioco a prezzo! Dove si fermerà? È una caramella! Adoro! Pazzesco! Guarda! Wow! Bello! Le metterò sulla mia torta! Sarà coloratissima! Non vedo l'ora di assaggiarla! L'aspetto è magnifico! Wow! È meglio di quanto pensassi! È così leggera e soffice! Bella scelta! Ok! Tocca a me! Per favore qualcosa di buono! E tensione! Davvero? Sottaceti? Non mi sembra giusto! Eww! Beh, diamogli una chance! Lo metto qui! Bene! È croccante! Beh, non mi piace! La prossima volta avrò più fortuna! Facciamo girare la ruota! Spero sia qualcosa di buono! Ah, te lo meriti! Oh, perché? Dov'è? Oh, posta aerea! La situazione si fa incandescente! Torta e senape! Finiamola con questa storia! Wow, è piccante! Ho tanta paura! Posso farcela! Ok, non male! Oh, è peggio! Oh beh, le regole sono queste! Facciamo così! Forza! Oh sì, perfetto! Uhuh, proprio quello che volevo! Piovono occhi! Sì! Gnam, sarà fantastico! Ho la colina in bocca! Zzzzzzz! Li voglio tutti! Sono morbidi! Senti come scrocchiano! Ehi, ti vedo! Che schifo! Come fai a mangiarli? Spero di non avere nulla di simile! Oh no! Non può essere una buona cosa! hai visto un regalo per te cavolo grazie sangue cosa dovrei farci mi sento molto bene si è stato anche così per me la prima volta intenzione di mangiarlo cosa posso arrivare andrà male ok e ora cosa no tutto tranne quello no ti supplico aglio è uno scherzo sento l'odore della mia paura come fanno gli esseri umani a mangiarlo forse solo una leccatina brucia aspetta mi piace posso iniziare io vai un bicchiere vuoto che succede e tu che hai scopriamolo guarda qui cosa non è possibile non mi sembra giusto in colpa il gioco non me ho bisogno di un'altra cosa tengo questa portata di mano non si sa mai quando ne avrò bisogno gelato queste fragole sembrano così succose ehi amica non farlo ecco qua latte ottima scelta fuori di qui devo concentrarmi diamo un'occhiata è tutto me ne vado da un momento all'altro una delizia fresca e gustosa spero davvero che nessuno mi abbia visto meglio andare a lezione avrò bisogno di questo libro oddio ma davvero niente cosa sto sbagliando wow adoro questa serie non è possibile il mio momento di brillare oddio volo via aspetta è un pipistrello fuori di qui ok non è andata a secondi piani ehi come va mi è arrabbiata non è facile essere una vampira ho tanta sete è un problema forse posso aiutarti aspetta un attimo so cosa fare preparerò un cocktail gustoso aggiungo dei denti scintillanti deve essere bello fresco ora la bibita guarda quante bollicine poi mi servirà del colorante alimentare rosso riempio questa piccola ciotola guarda che colore è perfetto ora riempio la siringa la vampira lo adorerà direi che ci siamo metto questo nel bicchiere poi spingo wow guarda un po direi che è pronto o quasi dimenticavo la cannuccia tada l'ho fatto per te cosa davvero che carina sei la migliore ok devo andare mi gira la testa quasi finito questo dovrebbe bastare lo verso nel bicchiere ha un aspetto delizioso so che sarà buonissimo ma non ho finito ricopro di panna il risultato è sempre il migliore ora ho bisogno di codette carinissime e questa è la ciliegina sulla torta wow sembra un'opera d'arte guarda questo unicorno lo adoro che eleganza guarda il mio drink wow pazzesco come hai fatto lascia stare segreto di famiglia beviamo wow è la cosa migliore che abbia mai assaggiato è delizioso siamo in una sfida di decorazione torte e diamo una tirata quella corda è cioccolato no non mi piace affatto evviva lo sciroppo al cioccolato che schifo la mia torta è rovinata la mia è coperta una corda di sciroppo sì la corda è qui tiriamola cosa che cos'è alghe io invece avrò dei confetti sulla mia torta basta non mi servono altre alghe di nuovo la corda di già oh è qualcosa di gommoso sono come piccole meteore oh ma sono briciole occhi gommosi mi piacciono però li metterò sugli spiedini tre su uno andranno bene e ora farò il resto con gli altri occhi ecco il prossimo elemento decorativo grazie metterò questi sulla torta così soltanto un altro poco e là l'ultimo ma quanti marshmallow mi piace come sta avvenendo forse anche io avrò dei marshmallow ok grazie signor scheletro ottimo sono noodles proprio quello che mi serviva e sanno di pollo delizioso immagino di dover cominciare metterò i noodles sopra in questo modo e non sono affatto invidiosa in realtà mi sto divertendo ok questa volta c'è un pulsante vado io per prima o una banana a me va più che bene accidenti sta succedendo qualcosa ma che bello ok tocca a te ecco che vado oh sembra zucchero filato fammelo aprire e tirare fuori ne metterò un po qui sta venendo bene voglio assaggiarne un po non sembra affatto male oh mio guardami sono selvaggia wow davvero sono tipo uno scienziato pazzo fammi mettere alcuni di questi qui l'odore non è male aggiungerò anche questi forse un po di questo liquido rosso ancora un pochino devo aprire questa strana bottiglietta ehi la mia banana ora è rossa fammi annusare poi assaggiare oh sono di nuovo normale molto meglio dunque la mia banana rossa forse va bene così che strano odore l'aggiungerò alla mia torta non lo so almeno il colore è carino la corda è qui questa volta tiro io ah è un cellulare cosa ci faccio non è cibo né un dolciume sì è reale lo metterò proprio qui no non funziona non ho idea di cosa farci vediamo cosa avrò io o un sacchetto di gommosi e sono a forma di topolino fammi assaggiare vediamo come sono non male aspetta che diavolo è quello un topo c'è un topo laggiù cosa cosa facciamo oh io lo so sbrigati ehi che mi dici cos'è un topo devi assolutamente salvarci sono uno forte ma ci vediamo dopo che cosa ma ci ha abbandonate ok sarò coraggiosa e sistemerò la cosa ecco che vado credo di averlo preso fammi guardare ma che strano ma è diventato un dolciume gommoso sul serio il topo non c'è più avevamo paura di questo forse abbiamo esagerato non so aspetta posso iniziare io ti prego ok vado ma è una specie di lattina oh oh no c'è dentro del polpo voglio aprirla e vedere quanto è grave ma che odoraccio sì ma lo devo mettere sulla mia torta sono le regole ok beh adesso devo spingere io il pulsante io ho della gomma rosa in polvere fammela aprire che la metto sulla torta devo aggiungere la polvere sento l'odore di fragola sai che c'è voglio assaggiarne un po wow guarda ora sono rosa e stai così bene ehi cosa stai facendo ho un'idea e c'entra anche il mio bucato ok ecco i miei vestiti li metterò nella lavatrice anche l'asciugamano da dove arriva questa palla beh tanto vale metterla dentro e anche questa pianta credo e la croc che cosa stai facendo ehi tanto vale che ci entri anche tu per pochissimo e ora aggiungerò la polvere rosa bene a presto allora sono qui wow i miei vestiti sono rosa quella polvere è pazzesca guarda cosa ha fatto e tutto sulle tonalità del rosa ecco la palla ed è fantastica ok vieni qui esci da lì sono diversa come sono i miei capelli oh ma che belli i miei vestiti siamo tutte e due carine grazie polverina torniamo alle torte facciamoci un selfie per ricordo ha un aspetto gustoso ehi cosa stai facendo dobbiamo decorarli oh giusto ma certo posso mangiare questa banana ha un aspetto delizioso mangiamo prima di tutto con gli occhi ma che mi hai appena lanciato una banana sai quanto costa questo cappello è ora di vendicarsi ehi chiudi gli occhi una mela croccante dammela dammela speravo che lo facesse è il momento del buon vecchio scambio spero che le cipolle le piacciono dai un morso che schifo capito che cattivo odore la mia comicità è geniale aspetta lo so metterò la mela sulla mia torta o altra frutta anche questo senti che aroma è una delizia per i sensi dai un'occhiata wow posso averla no non è per chi distrugge cappelli oh ho un'idea avrò bisogno di un palloncino è un duro lavoro sono felice che sia finita ci metto uno spiedino di legno ti ho spaventato è meglio andare avanti lo sistemerò intorno alla torta questo è l'ultimo pezzo ora ho bisogno di coloranti alimentari spruzzerò la torta di rosa non devo dimenticare i lati ora l'ingrediente segreto tante caramelle le spargerò sulla torta sembra proprio un'anguria sei un artista sembra fantastico ma la mia torta è più buona dici basta guardare siete d'accordo vero ragazzi con chi stai parlando fa così caldo mi sto sciogliendo qui ho bisogno di rinfrescarmi un piccolo spruzzo d'acqua dovrebbe aiutare così va meglio preferisco usare gadget il mio mini ventilatore mi rinfrescherà non funziona ehi vieni qui un gelato delizioso te lo sei meritato non c'è niente di meglio è fantastico vorrei il gelato hai detto qualcosa oh ma guardati riesco quasi a sentire il sapore ok puoi averlo davvero wow grazie sei molto gentile è gustoso fa il suo dovere credo che sia meglio aprire queste i miei complimenti allo chef ma non è del tutto corretto ci metterò sopra questa glassa poi potrò smussare il tutto basta un giro veloce ora aggiungerò altra glassa deve essere bello sono il da vinci della decorazione delle torte la gente viene da lontano per vedere il mio lavoro ok forse me la sto inventando ma dovrebbero che cosa stai facendo mi è venuta un'idea schiaccerò questo fondente poi posso srutolarlo devo trasformarlo in una salsiccia lunga e sottile proprio così ora posso piegarlo e dare una girata è il corno di un unicorno i miei talenti non hanno fine sarai l'orgoglio della mia torta wow è bellissimo non è del tutto corretto manca qualcosa deve brillare il mio anello risolverà il problema a così va meglio devi assolutamente guardare wow e ora decoriamo cosa devo fare potrei usare il mio cono di zucchero questa glassa potrebbe essere utile la userò per coprire il cono non ci vorrà molto è piuttosto divertente potrei abituarmici questa è l'ultima parte ora ci spargerò sopra degli zuccherini quanti colori pura magia poi userò questi cuoricini adorabile userò le caramelle per fare la faccia ehi guarda qui questo è un unicorno felice quella è la tua torta la mia torta è molto più buona sono felice della mia questa è arte non c'è niente che possa batterla ti piace la competizione eh guardate ragazzi ha vinto la mia torta wow che bello ti dispiace se aggiungo una cosa che bello immagino di sì ehi là bella la tua torta Ellie già ma non è nulla senza questo ora fa anche le telefonate nessuno rispetta la mia torta oh no è tutta colpa tua jared ecco ah sì evviva ha funzionato wow jared non sai cosa stai dicendo ah no è colpa tua e dai forza non ho fatto nulla cosa tutta questa roba e perché ho questo trucco delizioso via quelli vecchi prendiamo i nuovi sì mi piacciono ok nonna perché non pensi a te e va bene cos'ho io ok panna montata non male che palla dalla forma strana rompilo qui dentro se lo dici tu wow top e ora iniziamo a preparare un bel mix divertente ho fallito come nonna e ora un po di farina come se piovesse uohoo oh ah 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 nonna acwho ops la mia dentiera è volata via questa dici si come è potuto accadere per fortuna ne ho sempre una di scorta ah wow stai vedendo aha ecco qua come è nuova visto Già, riesci a crederci! Lo so, che dici? Davvero, rendiamo il tutto più interessante! Pronti? Eccoci qua! Questi denti sono un ottimo punto di partenza e voglio usare tutta la panna montata possibile! Per fortuna ne ho un sacchetto intero! Quasi finito! Ora si passa alla glassa blu! Non è bellissimo? Scommetto che ha anche un buon sapore e lo saprò presto con certezza! E due ciliegie in cima! Questi sono denti gustosi! Ha! Beh, è certamente unico! Ma come faccio a competere con lui? Non posso fare una torta con il succo di frutta, a meno che... Credo di avere un'idea! Ah sì, so cosa fare! Cominciamo con una torta a piani! E poi ricopriamola di panna montata! Una volta finito, mettiamo un'altra fetta di torta in cima! Poi mettiamo la glassa blu! Esatto, dobbiamo ricoprirla tutta! Poi un'altra fetta di torta! E ora il rosa! Ma questa volta la copriamo del tutto! Ora va sistemata! E' qui che entra in gioco questo strumento per levigare! Guardate che curve pulite! E ora per completare il tutto un po' di blu! Assomiglia a un fiore, vero? Ora spiano il tutto! Eccoci qua! Mi piace divertirmi un po'! Anche facendo torte, perché no? Non è magnifica? Guarda! E ho fatto tutto da sola! È come una piccola osi su una torta! Vorrei poterci fare un salto! Eh? Ma non ci credo! La nonna fa le torte più buone! La adoro! Cos'hanno in comune queste due torte? Vanno decorate tutte e due! Un arcobaleno? Adoro gli arcobaleni! Quanti colori! Oh wow! Voglio aprirlo! Non c'è bisogno di gridare, Jared! Guarda qua! Chissà cosa c'è dentro! Oh wow! Cioccolato! Non ho mai visto il cioccolato rosso prima d'ora! Wow! Posso farci un sacco di cose! Tipo metterlo sulla torta! Posso usare un sacco di colori diversi! Come la mia piccola torta arcobaleno! C'è un sacco di cioccolato! Voglio mangiarmela tutta! Magnifica! Vedi che bella? E la mia? Vediamo! E questi? Vediamo come farci qualcosa, va! Il primo? Rosa! Non ha un bellissimo aspetto! Si versa come se fosse burro! Che bello! Ma perché fermarsi a rosa quando si può avere anche il blu? Anzi voglio tanti colori! Tutte le tonalità dell'arcobaleno! Una festa su questo piatto! Visto? Non ne sono molto sicuro! Davvero? È brutta? Non ti piace? Beh... No! È stupenda! Ah, mi prendevi in giro! Guarda che torte fantastiche! Ne mangerei ogni briciola se potessi! Guarda com'è divertente questa! È tutto questo golosissimo cioccolato! Guarda! Non sono paragonabili alle mie torte! Hanno un aspetto davvero professionale! Non siete d'accordo? Beh, lo ammetto! Abbiamo vinto entrambi! Questo è certo! Allora, in quale torta ti tufferai per prima? Adoro fare i dolci! E questa torta sembra così gustosa! Ma manca qualcosa! Che ne dici di qualche ciambella? Non credo proprio! Mettiamoci una bella carota! Ecco così va meglio! Ma che cosa? Non esiste! Come osi! Questa è una vecchia ricetta di famiglia! Lasciami la torta! Dammela! Oh no! Non credo proprio! No! La torta! Ah, è tutta colpa tua! Ma forse possiamo salvarla! Rassegniamoci! È rovinata! Ma che condinate? Ups! Per favore non dire nulla a tua madre! Me la pagheranno! Prendete questa! Cosa sta succedendo? Sono troppo anziana per queste cose! Ehi, qua giù! Ti voglio bene, tesoro! Adesso sì che ci divertiremo! Certo che sì! Com'è eccitante! Vai tu per prima! No, tu! No, insisto! Non posso, prego! Oh, forza! Ehi, non abbiamo tutto il giorno! Ah? Oh, ma certo! Scusa, vado io! Ecco qua! Eh? Una tazza? Questo me lo aspettavo! Dentro c'è qualcosa! Hmm, è caffè! Ok, tocca a me! Diamo un'occhiata! Cosa? Ma è uno scherzo! Non è mica il mio compleanno! Fammelo mettere! Non è male! Oh, c'è qualcos'altro! È una bella trombetta! Oh, proviamola! Beh, ma salve! Wow, grazie! È un cono! Ma dov'è il gelato? Non è giusto! Non piangere, mia cara! Ma volevo un po' di gelato! So cosa fare! Iniziamo! Eh, ok! Ci sto! Per prima cosa il cono! Assomiglia molto al gelato! Ed è anche altrettanto gustoso! Ora ho bisogno di un bastoncino di legno e immergerò il cono nella glassa! Deve essere del tutto immerso! Ma ancora non ho finito! Aggiungiamo degli zuccherini! Oh, wow! È fantastico! È un'opera d'arte! Ma che fai? Hmm, era proprio quello che ci voleva! Wow, com'era forte! La caffeina sta iniziando a fare effetto! E ho un'ottima idea! Avrò bisogno di una barretta di cioccolato! Si sta già sciogliendo! Questo asciugacapelli è fantastico! Credo che si sia sciolto! Taglierò un angolo e verserò il cioccolato nella tazza! Mmm, che bontà! Credo che sia tutto! Inclinerò la tazza ad angolo e poi la farò ruotare! Adesso mi serve il coperchio! Verserò il cioccolato dentro! Questa è la parte più facile! Rispetterò che il cioccolato si solidifichi! Ora posso staccare la plastica! Ora ho bisogno di un po' di panna montata! Che buona! L'aggiungerò al cioccolato! Voglio che ce ne sia tantissima! Ed ecco il mio coperchio di cioccolato! Wow, ma è fantastico! Mettiamolo in cima! Mi piace troppo! Wow, ottimo lavoro! Potremmo fare le chef! Guarda che capolavori! Sono perfetti! E sono anche gustosi! Che ne pensi, mio caro? Bene, inizierò da questo! Molto figo! Ma deve essere anche buono! Mi sto per commuovere! Hai superato la prova! Ok, e adesso? Interessante! Assaggiamo! Wow, ma è delizioso! Sono così nervosa! E vince la divango! Wow, evviva! Ottimo lavoro! I miei capelli sono fantastici! Devo scattare una foto! Ehi! Stavo solo facendo un pisolino! Ora sono pronta! Ti ho sentita! Facciamolo! Forbici vincono! Funziona sempre! Vado io per prima! Ma cos'è? È una sorta di gadget! Sei così buffa! Tocca a me! Uh, dei biscotti! Sembrano buonissimi! So cosa fare! Ho bisogno di rinforzi! Ehi, venite qui! Sapete cosa fare? Non deludetemi! Ottimo lavoro! Farò io il resto! Inserirò un bastoncino di legno nel biscotto! Poi lo immergerò nella glassa! Inizierò con la glassa rosa! Ma non ho ancora finito! Adesso devo immergerlo nel cioccolato! E facciamo qualcosa di speciale! Decoriamolo! Che belli questi occhi! Li metterò proprio qui! Ora farò una linea in verticale! Aggiungerò dei puntini! E altri zuccherini! Com'è carino! E senti che odore! Wow, ho capito a cosa serve! Serve per fare i waffle! E guarda qui! Li taglierò a fette! Poi mi serve un bastoncino di legno! Ho una ciotola piena di cioccolato bianco! E immergerò i miei mini waffle! Ecco qui delle palline di cioccolato! Le metterò proprio qui! Ne aggiungerò qualcun'altra! Oh, la nonna è così brava! Sembrano gustosi! Non dirlo a me! Potrei mangiarli tutti! È ora dello spettacolo! Non sono un grande fan degli insetti, ma per queste farò un'eccezione! Si sciolgono in bocca! Hai sentito? Proviamo il piatto della nonna! Sembra davvero buono! Sì, avevo proprio ragione! Ti piace? Meno male! Questa volta è difficile! Avete vinto entrambe! Ci sto!